Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizio, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni all'incirca fino al 13 dicembre. Una grande novità vedremo nel corso di questo periodo. Una prima fase direi usuale per l'autunno, ossia una fase piovosa tra il 25 e il 27 di novembre per l'arrivo di una perturbazione dalla Spagna col suo vortice di bassa pressione che poi si sposterà verso il nord Italia portando piogge ovunque tra il 25 e il 27 e piogge che saranno abbondanti su Lazio e sulla Campania, debole nevicate sulle Alpi a quote intorno a 1000-1200 metri con accumulo inferiore a 10-15 centimetri. Temperature superiore nella media in questo periodo, non dissimili da quelle che stiamo vivendo adesso. Una seconda fase tra il 28 e il 30 di novembre, una fase veramente invernale perché arriva un nucleo di aria aria artica. Quando andiamo aria artica intendiamo dire che arriva non dai bordi del circolo polare ma dalla parte più interna del circolo polare. Quindi aria artica che il 28 raggiungerà il sud della Francia per poi sfociare sul Mediterraneo occidentale con freddi venti di libeccio, tutta l'Italia con freddi venti di libeccio, quindi porterà freddo ma anche neve. Piogge ovunque, nevicate fino a bassa quota, domenica 28 sulle Alpi qualche spruzzata di neve anche sul basso Piemonte. Il 29, piogge ovunque, nevicate su tutto l'Appennino dall'Emilia fino alla Calabria, nevicate con qualche spruzzata di neve che potrebbe interessare anche la Toscana, l'Umbria e Lazio, le zone interne di questa regione. Il 30 ancora piovoso al centro-sud, nevicate fino a bassa quota sull'Appennino abruzzese, gelate sul nord Italia e il 30 massime in questo periodo in cui arriva tra il 28 e il 30 che saranno 4, 8 gradi sotto la media prevista per questo periodo dell'anno. Infine l'ultimo periodo, l'ultima fase tra il 2 e il 3 di dicembre quando un altro nucleo freddo, questo partito però dai bordi del circolo polare, raggiungerà i Balcani, da qui sfocerà sull'Italia, porterà pioggia al centro-sud e gelata al nord, debole nevicate su rilievi abruzzese fino a bassa quota. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.